terza che cinema per 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 E' un po' di calciasso, perchè prima non ho chiuso, ho saltato troppo e non me l'aspetta. Adesso proviamo questo qua. Lo si ha scelto qua, dici che... E' un po' di calcii. E' un po' di calcii. E' un po' di calcii. Andiamo. 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 Quarta piena Sì, quarta Quarta piena 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 Quarta 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 Quarta